Innanzitutto si richiede di costruire delle strutture robuste, delle strutture che possano durare nel tempo e ai materiali quello che chiediamo è la durabilità, ovvero la possibilità di avere una struttura durevole che duri, che sia una struttura funzionale e funzionante per tutta la sua vita utile. Stiamo parlando comunque di infrastrutture, quindi di opere che hanno un centinaio di anni di vita utile. Questo è molto importante ed è importante anche minimizzare la manutenzione, questo comporterebbe, scegliendo ad esempio il calcestruzzo, di ridurre la manutenzione, di ridurre anche l'impatto sull'ambiente e quindi direi che questo è un grande vantaggio che ci è offerto dal calcestruzzo rispetto ad altri materiali.